Se un tempo nelle canzoni ci stava la vita appesa ad un filo o il cuore, adesso arrivano le scarpe. Resta avvolta nel mistero la ragione dello show i fiti. In italiano vuol dire scarpe volanti, il nome è l'unione di due parole, shoes, scarpe e graffiti. Il fenomeno è arrivato anche a Caltanissetta. Chi cammina con il naso all'insù se ne sarà accorto in Viale della Regione, in Viale Trieste, in Corso Sicilia, in Viale Dalmazia. In sostanza si legano le scarpe con i lacci e si lanciano sui cavi dell'alta tensione, i fili elettrici. Una caratteristica in comune sono le scarpe maschili, sportive, delle sneakers o da ginnastica. Tutti si chiedono cosa vorrà dire, ma non c'è una vera e propria spiegazione. L'origine è americana, ma dell'America del Sud. Probabilmente era un segnale per indicare la zona di spaccio, di sostanze stupefacenti come il crack o la cocaina, ma anche una sorta di limite e confine di territorio per le bande o addirittura il simbolo, un segno per ricordare un componente della gang morti in un omicidio. Col passare del tempo altre sono state le ragioni attribuite a questa manifestazione. Se per alcune è stata la fine della scuola o la perdita della verginità, per altre è un imminente matrimonio. C'è una parte di teoria che vuole le origini in una tradizione militare, quando si legavano gli anfibbi per lassare traccia del passaggio dei militari. O la fine del periodo di leva. In alcune zone del mondo, come addirittura la Nuova Zelanda, lanciare le scarpe sui figli è diventata una pratica sportiva amatoriale. Tanto misteriosa la natura e la ragione, quanto oramai divenuta famosa ad essere protagonista anche di scene e di pellicole, anche molto importanti, piaceva così tanto al regista Tim Burton che lo ha messo in Big Fish. Chissà che avranno voluto dire i lanciatori in issegno, il lanciatore, forse è un'unica mano o sono differenti, questo non lo sapremo mai. Quando probabilmente nottetempo hanno o ha compiuto il gesto, una certezza c'è, le scarpe sui fili sono apparse tutte in momenti diversi e in periodi diversi, quelle di Via Dalmazia, le prime in assoluto e già da un po' di tempo. Magari un messaggio in codice per qualcuno, chissà il destinatario avrà letto il significato, forse semplicemente un gioco che racchiude in sé un mistero. Quello dello Shofidi sarà comunque una ragione in più per guardare il cielo.